bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tante novità per tutto quello che riguarda il futuro di fortnite vedremo probabilmente una nuova collaborazione interessantissima si smonto tutto ma andiamo anche a parlare sicuramente di alcuni piccoli easter eggs che ancora non vi ho mostrato e che sono stati scoperti nelle ultime ore riguardanti l'evento di travis e tutte le varie collocazioni nella mappa e in quello che ci dovremmo aspettare volevo però prima ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul video news ma prima di iniziare lo sapete che io ci tengo tantissimo a farvi la domandina leggo i vostri commenti che mi lasciate qui sotto e oggi torna dopo un bel po una domanda che vede al confronto due armi di fortnite ma secondo te qual è la migliore di queste laug oppure la cappa è vero sono due armi perché non hai messo lo scar ad esempio mi potreste dire perché secondo me la cappa a un bloom leggermente inferiore che si va ad avvicinare di più a quello dell'aug secondo me lo sapete per chi mi segue in live su twitch io preferisco laug tanta tanta roba una volta che l'hai loccato e parte la prima raffica è praticamente distrutto mi piace molto anche la cappa ma io voto laug dimmi quello che a te invece sembra il migliore qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande i bando alle ciance andiamo subito ragazzi a leggere l'ultimo post di twitter su twitter di trevi scott che dice onestamente è stato uno dei lo dice trevi è stato uno dei miei giorni di massima ispirazione rivolgendosi ovviamente al concerto amo ognuno di voi ragazzi e so che questi giorni questo periodo è molto strano per noi ma per ma penso che con l'evento c'è stato un momento dove tutti ci siamo un po sentiti esterni a quello che sta succedendo insomma questo è il significato di quello che trevis ha voluto dire ringraziando tutti i suoi fan una roba come tipo 190.000 like o giù di lì risponde anche su twitter nella stessa giornata anche il nostro buon vecchio donato mostarda che oggi rivedremo nella parte più avanti del video che dice ci sono stati un sacco di dettagli e un sacco di easter eggs durante l'astronomica l'astronomica lei il nome ufficiale dei concerti qual è stato secondo voi il migliore dei momenti ed effettivamente il donato ci ha preso perché ci ha preso perché è successa una cosa molto interessante un easter eggs che tutti si erano persi sino a poche ore fa niente di esagerato ma voglio farvi vedere questo spezzone di video che è preso appunto proprio direttamente dal concerto e se andiamo a vedere alt che mi fermo guardate esattamente sotto le gambe del buon trevis no scusatemi alla sinistra della gamba destra di travis la vedete quella skin tutta colorata eccola qua in questo momento zoomata beh ragazzi forse non ve ne siete accorti ma nel concerto era presente ovviamente mossa dal computer la skin synth e guardalo lì guardalo lì che che se la dabba prepotentemente con la infinity dub questa skin ragazzi in realtà non è ancora uscita ma dovrebbe far parte del del set infatti si chiama synth l'avevamo già vista nella patch 12.40 e che dice appunto spesso duplicato mai battuto sappiamo che ha una variante è molto carina come skin nella sua semplicità molto colorata e appunto i colori ci fanno un po riprendere il discorso di travis quindi ragazzi un altro piccolo easter egg davvero molto cariso molto cariso che non so è curioso e carino che ovviamente ci stava a dirvelo ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi e se partissero gli slide sarebbe una cosa fantastica ed è proprio l'argomento che sta infiammando in questi giorni in queste ore in questi minuti sui forum su youtube su twitter su tutto quello che è dedicato al social di fortnite una possibile quanto veritiera collaborazione con questo film extraction adesso voi dite che cavolo è extraction e ora vi spiego un secondo allora extraction è un film che è uscito il 24 aprile nelle sale cinematografiche italiane racconta la storia di un mercenario che deve liberare il suo figlio da un signore della droga ok il film come vedete è diretto lo leggete anche proprio nella locandina ufficiale dai russo brother ora io immagino che il 90 per cento di voi dice che caspita sono i russo brother è la stessa cosa che ho detto io per i più appassionati della serie marvel i russo brother sono stati sono 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 registi di origine italiana che hanno partecipato alla produzione alla regia di quattro caposaldi dell'universo marvel e parlo di marvel cinematic universe capitaine america the winter soldier capitaine america civil war e avengers infinity world e avengers endgame adesso questo innanzitutto già è un bel segnale di allarme perché già abbiamo visto le collaborazioni con avengers ma che cosa c'entra con fortnite beh ragazzi è molto semplice pubblicano i russo brothers nella loro pagina twitter questo post chi vedreste meglio in questo fight tyler rake che appunto protagonista del film che vi ho appena detto o john wick da lì mi entra come un salmone che risale alla corrente il donato mostarda che dice ehi joe forse noi potremmo mettere rake in fortnite e vedere che cosa succede gli rispondono i russo brothers e dice oh yeah ovviamente non c'è bisogno che ve lo traduco entra anche boost logic che adesso io non ho approfitto chi fosse questo piccolo fotobomber piccolo mica tanto perché ha il verificato e dice se questo succedesse posso prepararvi il poster e donato gli dice ovviamente sì applausi fuoco e cuoricino ragazzi questa è una cosa molto interessante il donato fa un po quello che c'è e che non c'è ma sebbene sappiamo che il capocione il ceo di fortnite non è più il donatone il donatone rimane sempre il capocione di tutto il team di sviluppo di epic games dedicato ovviamente a fortnite e questo potrebbe appunto far pensare che arriverà in un futuro prossimo una nuova collaborazione appunto con il film porca miseria me lo sono dimenticato tyler rake che in realtà si chiama extraction quindi una cosa molto carina per gli appassionati sicuramente una roba da non perdersi staremo a vedere e vi cercherò di tenervi aggiornati andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi che siamo quasi in chiusura in realtà è un bellissimo concept che ha spopolato pesantemente su reddit anche questo nelle ultime ore va a riprendere nuovamente la saga invece di star wars voglio un attimo togliere due secondi la mia webcam in modo che vedete proprio il nome il nome si chiama ashoka tano ora io non sono un fan di star war però siccome c'è stato un casino di gente che ha replicato hanno detto adesso lo proponiamo lo facciamo probabilmente è qualche personaggio che c'entra in maniera massiccia un'idea sicuramente carina una bella cosa da farvi vedere chi lo sa se magari arriverà fino ai capoccioni di epic games e lo potremo vedere in game insomma ragazzi anche per oggi tutte le notizie io ve le ho dette voglio ringraziarvi tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao ciao